Dal mese di marzo scorso il quadrante compreso tra le vie Selinunte della Salute a Venere e Tripoli, cioè gran parte dei palazzi a Monte e a Valle di Via della Pace, sono senza acqua. Motivo della interruzione dell'erogazione idrica un inquinamento, in effetti riscontrato dal servizio idrico integrato del Comune di Trapani, che ha in corso dei lavori nelle strade del quadrante per individuare le ragioni dell'inquinamento. Alcuni condomini hanno dovuto necessariamente chiudere l'appresamento con la rete idrica pubblica, ripulire le cisterne e approvvigionarsi con autobotti. In verità il Comune di Trapani fino a pochi giorni fa ha sopperito proprio con le autobotti, ma dal 9 giugno scorso neppure una ne è stata assicurata e i condomini hanno dovuto fare ricorso alle autobotti private con esborso di denaro. Inoltre i lavori per individuare le ragioni dell'inquinamento delle condotte sono fermi da tempo. Francesco Erice, qual è la richiesta degli abitanti della zona? La richiesta degli abitanti della zona è quella di ripristinare il servizio di autobotti a servizio del Comune e successivamente riuscire a trovare la perdita che ci ha causato questo inquinamento sulla condotta. Da quanto tempo siete in queste condizioni? In queste condizioni siamo dall'inizio marzo di quest'anno, però il servizio idrico integrato del Comune ci ha fornito la autobotti fino al giorno 7 di giugno. Dopodiché cos'è accaduto? Dopodiché per problemi organizzativi da parte del Comune stiamo acquistando autobotti private per rifornirci di acqua.